ecco qui siamo sulla passerella del rio del garda c'è omar davanti a noi e donnie dietro ormai siamo arriva del gatto sulla passerella guardate che spettacolo attenzione grazie guarda come fanno tutte le barchette guarda lì sotto ma una dietro l'altra guarda hanno fatto un incidente davvero hai fatto la garetta via ti prosegue ciao a tutti ciao 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 ciao